Modalità parco giochi, quest'oggi proviamo a creare una pista per i carrelli modificata super figa Allora vogliamo farla proprio totalmente costruita da noi, quindi utilizzando il legno E perché lo vogliamo fare? Perché vogliamo creare delle discese, delle salite Vogliamo mettere dei bouncer nelle varie curve, creare un vero e proprio circuito piccolino Perfetto per i carrelli, secondo me può uscire una figata, vero? Sarà difficile, sì, è difficile, non tanto per i materiali perché qua siamo a posto È proprio pensare la struttura, esatto, è pensare la struttura e chi è che mua in mente una pista? Nessuno, nessuno di noi, la cosa positiva è che lì in quella pista là dove siamo atterrati ci sono già quattro carrelli E quindi i carrelli noi dobbiamo cercare, ci servono un bel po' di bouncer che sto andando a cercare io prendendo dei lama Ci serve tanta 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 legna e dopodiché si può partire Allora dirigi tu lì le costruzioni e praticamente sfrutta la pista che c'è e fai tutto piano con la legna Ok, crea una zona di piattaforme di legno base da cui noi partiamo poi a costruire, capito? Quindi la pista dovrà essere rialzata sopra questa piattaforma Esatto, esatto, ok, perché in questo modo non abbiamo problemi di dislivelli Quindi conviene già subito metterci i sospesi in aria Poi da lì iniziamo, così comunque loro ti vedono e capiscono un pochettino Ok, infatti Quindi praticamente Allora, praticamente adesso ho creato una piattaforma come quella di prima Sospesa in aria e ora dobbiamo avere problemi con le montagne, con le colline eccetera eccetera Larghissima E poi da lì iniziamo a comporre la pista Guarda ho fatto, ho fatto la rampa Ok Proprio di fronte ai cartelli e partiamo da qui Ok, perfetto Hai carrelli, non c'è Ah, ho capito, ho capito Allora, per ora niente bouncer, ho trovato trampolino e tre granate d'impulso Ok, avevo visto bene, sono a tre lama dai primi bouncer, ti prego Ti prego Ok, trovati Ok E di nuovo granate d'impulso, bene Questa è un'ottima notizia Ok, tre bouncer e sei granate d'impulso Ok, non male dai Eh, io vorrei una ventina di bouncer, eh Io vorrei una ventina di bouncer Sta roba esce abnorme Vero? Ma che dici? Uno lo manda a cercare lama? Sì Ok E uno di voi due può andare a cercare lama verso la palura e tutte quelle zone? Così facciamo due che cercano lama e due che buildano Ok Allora Sto facendo perlomeno il perimetro Abbiamo ok, anche il team di costruzione organizzato con i vari ruoli Per fare le follie Allora, sopra Corso Commercio voglio vedere almeno due lama, cavolo Almeno due Per ora zero Com'è possibile? Ho finito i materiali, quindi devo andare a rifarne altri Ok Hai visto quanti ne ho? No 24 Vabbè Ok Bello che non hanno messo anche il limite di ste robe Già Ehm Allora sì, arrivo Inizio magari a pensare un minimo di struttura No, no Non mi metti in mezzo, Steph L'idea è tua Non mi devi stare a rompere Dai, io faccio schifo Ma non mi interessa, Steph Anch'io faccio schifo Cioè, non puoi pretendere che io sappia fare ste robe Sì, sei più brava Allora, come la dovrei fare? Tipo, allora, guardami Sì Ascolto, faccio io Neanche ti ascolto Una pista Sto facendo, sto facendo Ok Dai ancora Trampolino, va bene Almeno torno più in fretta a casa Ok Questa è la struttura che ho fatto a fare Si va di cosa? Ok Poi sto facendo i muri perché penso che nei muri metteremo i bouncer, no? Sì Per girare E quindi poi andiamo anche di così Ok Montagne a russa, è orribile Dici che fa schifo? No, secondo me almeno sarà divertente da provarla O mi ci sto impegnando Ok Io mi sa che inizio a portare i carrelli Ok Allora Qua super curva Ok Quanti cavolo ne ho? Così, così E così per evitare di volare dall'altra parte E facciamo Adesso voglio fare un'altra salitona Mi ha dato troppa fantasia, Steph Non fa Facciamo una bella salitona Riusciremo a farla? Oddio, non lo so Allora Io farei che la gara inizia qua No, no L'ho deciso io dove inizia la gara, Steph Ed è più giù? Sì, è da lì che inizia Con tutte quelle salite? Sì Ok Non rompere, non mi rovinare la gara Che sono l'unica che sta costruendo, Steph Ok Non rompere, ok No, ho buttato uno giù Scusatemi Allora Devi mettere i bouncer nei muri Ok Dobbiamo collaudarla Per vedere se questi muri bastano A farci curvare O se ci Ci fanno volare via dalla pista Non lo so Allora Secondo me Qui Altrimenti voliamo dalla pista Eh, esatto Modifica lì Ok Cioè, metti Percorrile e vedi come va Perché non lo so Cioè, io ovviamente Ho pensato che potesse andare bene così Comunque almeno È scenosa da vedere Guarda, Steph Hai visto? No Non mi devi distrarre, Fere Stavo dicendo che era bello Ok Stiamo facendo un qualcosa di letteralmente epico Stiamo facendo un qualcosa Sembrano più montagneri O se Però dai Eh, vabbè Come devi costruire così Lo devi fare Ok Questa è la salitona Per poi farla discesona Guarda, Steph C'è la discesona Vum E qui prendi un botto di velocità E poi vieni sbalzata E poi vieni sbalzato col bouncer Capito? Bello Ok Vedi, è la raffa che ti fa volare qua Tecnicamente E poi Fa con l'audace Esatto Ok 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 Chi sta sparando? E poi qua Ragazzi si distrugge la pista così No, era la mia pista Fidati No, la mia pista Sta distruggendo la mia pista Il mio finale Ti fidi? No Allora Se sei pro Finisci su questo Se non sei pro Se non sei pro Ci sono questi Allora, Nat mi ha dato anche altri Tre bouncer Ok, ci siamo Praticamente, sì Ti servono altri bouncer Ne ho altri tre Fai, ne ho altri cinque che avanzano Ne ho sprecato tantissimi Ma li metti in esagera Copri tutto Per ora fidati Ok, andiamo Allora, facciamo il primo test Sto arrivando anche io E poi vediamo se va modificata Quindi preparatevi al momento epico Allora Ok Uff Sono in ansia, eh Ognuno deve guidare un carrello Ma ne usiamo due dei carrelli Così facciamo meno casino, no? Sì Vai Sì, è meglio Ok Vai Andiamo Vai Ci sta un bel ballo Ok Vediamo un bel ballo Funziona molto, Steph Sta roba Lo stiamo perdendo Ok, torno indietro Ok Sicura di voler guidare? No, no, no Per niente, Steph Per niente Non voglio per niente guidare Non mi prendo sta responsabilità Pere Ma devi Ti metti bene? Non mi sclicare Vai Ecco Vai Qua non sono serviti a molto i bouncer, Steph Ecco, grazie Ok Va bene Allora, vediamo Eh, ma sono troppo stretti Troppo larghi Capito? Eh, non la chiappa bene Però devi fare così Vedi? Ecco Quello di cui avevo paura Beh, loro la stanno finendo Noi abbiamo fatto una ceppa Ma questa parte come si fa Ma questa parte come si fa Se riusciamo a prendere i bouncer Ce la so È un problema Se non avevano fatti più stretti Dobbiamo pensarla meglio No, secondo me non fa Secondo me non fa Mi sa proprio che non fa Tipo Guardali loro Vediamo la scena Eh, hanno preso un rimbalzino Non hanno preso Ok Il trampolino Che il trampolino è più bello ancora Finito Allora Che noi Sì Proprio finita Ok, vai Ok 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 Oh cavolo, Steph Ho tagliato troppo la curva Vai Ma lo dobbiamo prendere per forza No, l'ho schivato Ma dai Sono come te la fai sta salita Eh, lo so Ma avevo paura di rovinare tutto Però potete prenderlo Pronta? Vai Questo è bello, vai Oh, finalmente Ma che cavolo Ma che cavolo Sali Che tristezza, cavolo Oh Oh Non devo cadere Ok Allora Almeno facciamone una giusta Dai Prendiamo il trampolino Quei cavolo di trampolino Ok Vai Dimmi di sì 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 Bello Guardate il percorso intero Venite qui vicino Ok, vai Pronta? Mmh Allora è Bouncer Trampolino Si vola lì Si va un po' verso destra Si mira questi quattro Si torna su questi E si va sul trampolino Ma io non ci riesco Funziona Allora Quindi questo Un trampolino Poi Ah Ok Si va questi Abbiamo mollato i carrelli Ormai siamo dei rimbalzini umani Io ogni tanto la faccio Ogni tanto no Dipende Te devi gestire molto bene Non è semplice Perché devi uscire a farlo andare abbastanza verso lato E poi darti comunque i comandi bene È una figata però Si Si Almeno Dai Mi ha fatto sbattere Dicevo Almeno abbiamo recuperato Mi ha fatto risbattere Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Da qui poi riprendo il trampolino Si Esatto Eh deve essere molto preciso No mi sono scontrata con uno Ho perso il ritmo Mi dispiace Peccato Uh No Ok Dai fermiamoci Così che se no rimbalziamo davvero per l'eternità Ed oltre Che è successo Steph? Riesco a sommare Il 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 Bouncer Alle Granata di impulso Però a quel punto prendi danno da caduta Ho baggato tutto Si Ho baggato tutto In ogni caso direi che ci fermiamo così per questo video Siamo riusciti a fare una pista interessante Una roba tutta particolare È stato più divertente poi a piedi Con tutte le case rimbalzanti Come sempre continuate a proporci nei commenti altre cose particolari da fare Qua sotto altri video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao